Alfonso, comunque ieri parlando, mi ha detto no, prima devo chiedere o aspettare ad Alfonso Signorini che sarà un tuo rivale. Eh beh, quello hai ragione, se non hai la mia benedizione, guarda, altro che rivale, io ti faccio nero, risette. Beatrice, non c'è gara. Non farmi del male, eh, non farmi del male. No, voglio dire Alfonso, allora, indubbiamente c'è una grande complicità fra noi, come c'è sempre stata, e non sparisce in un attimo, e sinceramente... E questo ci fa piacere, perché... E non c'è neanche bisogno che sparisca. Certo, bravo, esatto. Assolutamente, per cui in realtà noi viviamo qui 24 ore su 24, non siamo poi in molti, trovare una complicità così non è... Non è facile, non è facile. Quindi io sinceramente me la vivo, questo non significa che rimetto il cuore in mano, assolutamente no, non posso, perché purtroppo... Ma quello sarai tu, ovviamente. No, no, è che nonostante le sue buone intenzioni, non credo che lui possa gestire niente del genere, non qui, non adesso... Diceva Prevert una cosa molto saggia, il buon Prevert diceva, a volte e quasi sempre, non bastano mai le buone intenzioni. Sì, è proprio questo. Grazie.